Salve! Non si sono accorti di nulla, Maria Luce, vai! Vai, non si sono accorti di nulla! Giampietro, ti vuoi muovere? Che ti fai? Io Giampietro, li hai viste? Eh, sono due donne. Eh, sono due donne. Sono due donne che si baciano. Eh, sono due donne che si baciano, è normale, è normalissimo, è normale, è normale. Adesso che facciamo? Eh, che facciamo? Passiamo lì davanti facendo finta di niente. Eh, passiamo lì davanti. Eh, facendo finta di niente. Eh, facendo finta di niente. Giampietro, adesso che li passiamo davanti, vedi di fare poco il cretino e di non guardarle. Ma figurati se le guardo, è normale, è normale. Due donne normali che si baciano normalissimamente, è normale. Non puoi essere normale, è normale. Due donne normali, è normalissime, è normale. Ma se passiamo senza guardarle, non sembra che noi le guardiamo poi non guardarle? E tu non guardarle, no? Eh, ma si vede, eh. Ricci, eh? Eh, ma si vede, sì, si vede. Facendo finta di non guardarle, che guardi dall'altra parte. Normalmente è normale che uno se ne accorge e fai finta, guardi dall'altra parte. Ma normalmente facendo che guardi di là e guardati là e loro guardano, dai, è peggio, peggio, peggio. È peggio, eh? E allora che facciamo, Giampietro? Senti, facciamo così. Passiamo lì davanti e io dico in modo da farmi sentire. Guarda, Maria Luce, due donne che si baciano, guarda com'è normale. E tu mi dici? Ah, sì, è normale, è normale. Io ti dico, eh, certo, è normale, è normalissimo, è normale. E tu mi dici? Guarda, proprio due donne che si baciano, tanto è normale che quasi proprio non me ne accorgevo. Così loro ci sentono e non si sentono a disagio, è normale, no? Giampietro, tutti i droghi, tutti i droghi pesantemente anche, Giampietro. Per favore, basta con quella brutta droga. Te lo dico io che cosa facciamo. Adesso li passiamo davanti facendogli capire che per noi è normale, che noi siamo più normali di loro. Ma non ho capito. Vai, Maria Luce, vai, vai tranquilla. Vai alla grande. Ma una così. Salve. Non si sono accorta di nulla, Maria Luce, vai. Non si è accorta di nulla. Non si è accorta di nulla. Grazie a tutti